Nel 1963 veniva venduta la prima minigonna. Ideato dalla stilista inglese Mary Quant, questo capo d'abbigliamento femminile ha rivoluzionato il mondo della moda e tra pochi mesi festeggerà i 50 anni di vita. Così a Roma Salvo Esposito ha voluto rendergli omaggio attraverso una serata che ha visto protagonista un nutrito gruppo di modelle, ovviamente tutte in minigonna. Hanno sfilato per via Veneto tra lo stupore di turisti